Ciao a tutti ragazze e ragazzi, siamo oggi su un video un po' particolare, totalmente inaspettato, perché non pensavo di registrare un video del genere, ma visti i recenti avvenimenti, soprattutto un paio di commenti che mi sono giunti di recente, ci ho pensato un attimo e ho detto aspetta un attimo, magari se faccio un video apposito dove spiego il problema forse riescono a capire meglio ciò che passiamo noi creatori di contenuti. Parliamo del copyright, un problema a cui nessuno, forse quasi nessuno, ci pensa, che comunque c'è sempre stato su YouTube e dà ragione comunque di esserci, solo che delle volte, come mi è successo, diciamo va a inficiare la qualità del video stesso, poiché nel caso di chi fa gameplay come me e come altri, al 99% dei casi non ti capitano segnalazioni, infatti i videogiochi in un certo senso sono, non so come posso dire, tutelati no, però al sicuro, ecco, il 99% delle volte sono al sicuro dal problema del copyright, poiché nonostante comunque che io sappia quando tu vai a comprare un gioco, qualsiasi gioco sia e di qualsiasi piattaforma, tu vai a comprare la licenza ma per uso privato, non per uso commerciale. Per uso commerciale non si intende che tu pubblichi video su YouTube, cioè per uso commerciale si intende anche, ecco, che tu il video lo pubblichi comunque su YouTube, cioè se tu lo pubblichi su YouTube e non monetizzi, è comunque un uso commerciale, perché dunque tu fai vedere ad altri una cosa che tecnicamente hai comprato per te stesso, ecco, che io sappia è così, poi però in generale tutte le case di sviluppo e le case editrici non dicono il più delle volte, non dicono nulla, non fanno finta di niente, ecco, perché gli conviene semplicemente, perché è comunque tutta pubblicità gratuita che facciamo al gioco ed anzi, magari il ragazzo o la ragazza che è interessato a un gioco prima di comprarlo va appunto a vedere i gameplay, si convince un attimo e poi magari lo compra oppure l'opposto, dipende, comunque va a vedere un qualcosa giocato da un altro anche solo per capire com'è, alla fine è un po' quello che ho sempre fatto anch'io, se vogliamo, prima che aprissi un canale YouTube o che faccio tuttora, se il gioco in questione non mi convince com'è stato per esempio per Star Wars, perché io prima di comprare Star Wars, oggi è di Fallen Order, sono andato a vedere vari let's play, gameplay, chiamateli come volete, walkthrough, ovviamente di inizio gioco e cercando di spoilerarmi il meno possibile, per capire un po' come funzionava il gioco, che meccaniche c'erano eccetera, una volta che ho visto che il gioco poteva piacermi allora l'ho comprato, è un po' la funzione che facciamo alla fine, al di là di intrattenere o meno, però da sempre che io sappia c'è questo problema del copyright che molti sottovalutano e a molti altri non ci pensano minimamente, poiché è un problema ovviamente più legato alla musica che ai video in sé, anche se però esistono, esistono le segnalazioni video, proprio copyright di pezzi di materiale video, spesso di film o anime protetti e che tu non puoi pubblicare, ecco, capita anche quello, però rimanendo in tema videogiochi, il 99% delle volte se c'è qualche segnalazione è una segnalazione a livello musicale, perché magari lo sviluppatore ha deciso che per, nel caso di Star Wars, essere più fedeli ai film o comunque creare un po' di, tra i fan soprattutto, legame coi film per farli, sì, adesso non so come chiamarlo, però farli provare emozioni, ecco, giocando a un gioco di Star Wars che rimandano ai film, inseriscono, più che altro, colonne sonore, appunto, dei film o delle qualche serie, non so se ha fatto qualche serie, di recente stanno facendo The Mandalorian, però in passato non lo so perché poi è un brand che non ho mai seguito più di tanto, come ho detto durante la serie, più di vedere i sei film non ho fatto altro, stop, ecco, però Star Wars è un esempio, poi ce ne sono altri, per esempio in Dead Stranding invece ovviamente essendo un gioco e basta, non esiste niente riguardante Dead Stranding, almeno per ora, nel caso di Dead Stranding invece degli autori, comunque, non so, dei cantanti, autori, odiofamosi non saprei, però comunque sempre autori, che io non li conosco, hanno inserito delle loro canzoni nel gioco, come può essere, non so, un, faccio l'esempio, se un Eros Ramazzotti, un Vasco Rossi, un Ligabue, inserisse in un videogioco una sua canzone, certamente quella canzone è protetta da copyright, e YouTube te la segnalerebbe, poi non YouTube in sé, ma chi detiene i diritti della canzone, la segnalerebbe, è un po' quello che accade in Dead Stranding, hanno inserito canzoni di autori e gli autori stessi hanno protetto le loro canzoni con copyright, giustamente, ovviamente, però qual è il problema? Il problema è che, allora, se la segnalazione, il pezzo segnalato, avviene durante una fase, non so, di gameplay, è la cosa meno grave, perché tu dici, vabbè, come accade in Dead Stranding, per quanto è brutto, ecco, è brutto, però dici, durante un gameplay, cioè, nessuno parla, ci sono solo effetti audio, non so, in Dead Stranding c'è la camminata, il vento, quello che è, insomma, il rumore degli effetti, eccetera, e nessuno parla, non ci sono filmati né niente, dici, vabbè, in quel caso lì, magari, per proteggermi, levo direttamente l'audio di gioco, per quanto, comunque, non è una bella cosa, io sono il primo a cui dà fastidio, non pensate che lo faccio perché mi diverto, perché sono il primo a cui dà fastidio, oltre al fatto di avere del lavoro in più, perché io cosa faccio? Se non immagino che la canzone in questione, con il sonora, è segnalata, lo registro, lo monto, lo renderizzo, poi lo carico su YouTube, e finché il video su YouTube non viene elaborato, io non so se c'è qualcosa di segnalato o meno. Quando poi scopro di qualcosa di segnalato, cosa devo fare? Dico, porca vacca, devo cancellare il video, riaprire il progetto del video stesso, andare a cercare il minuto dove c'è la colonna sonora che non va bene, e poi decido se toglierla o elaborarla un po'. Nel caso di Death Stranding l'ho tolta completamente, quindi tolgo il pezzo, lo rirenderizzo, quindi altre due, tre ore, poi dipende dalla lunghezza, che devo aspettare, e poi lo ricarico, quindi è tutto un lavoro in più. Però la cosa che secondo me è molto grave, quando la segnalazione ti arriva da quel pezzo di video che magari c'è un filmato, come è accaduto in Star Wars. C'è un filmato, perciò i personaggi parlano, e tu cosa fai? Cioè, o togli tutto, ma non mi piace, neanche a me. È una cosa che nei filmati cerco di evitare di fare il più possibile, perché poi i personaggi parlano, tu non senti niente, se non metti sottotitoli non capisci neanche cosa dicono, ma a parte questo è brutto. Cioè è brutto che all'improvviso l'audio sparisce e tu ti guardi il video così muto, non è bello. Quindi cosa faccio? E cosa fa anche YouTube, se vogliamo, perché adesso ve lo faccio vedere, ma YouTube, come comunque state vedendo qui, che c'è scritto modifiche in corso, ha un sistema interno per rimuoverti la canzone potetta da copyright. E cosa fa? Cerca di toglierti la musica in sottofondo e ti lascia solo le parole, il parlato. Però essendo la traccia audio, una traccia unica, è molto difficile levare al 100% la musica. Infatti, come è accaduto nell'Ordine 66, l'episodio dell'Ordine 66, anche se in quel caso l'ho fatto io, non l'ho fatto fare a YouTube, perché questa funzione di YouTube spesso facilecca, quindi devo farlo io, quando il personaggio parla, in sottofondo la musica si sente, però si sente talmente per poco tempo, fai 1-2 secondi, che l'algoritmo di YouTube non riesce a identificarla e quindi non te la segnala. Per quello, magari, se levo l'audio durante i filmati, si sente un po' l'audio andare a venire, diciamo, alzarsi e abbassarsi, perché magari il personaggio parla, quindi l'audio c'è, la voce si sente, ma in sottofondo c'è la musica. Però io ho messo in modo che la musica debba sparire, quindi quando il personaggio smette di parlare, buon, muto, il video è muto improvvisamente. Però poi, dopo un nanosecondo di pausa, il personaggio parla e quindi ecco che si risente il parlato e la canzone, perché la traccia audio, essendole tutta unica e legata, viene questo brutto effetto, però è l'unico sistema che ho trovato a livello, diciamo, da autodidatta per cercare di farvi sentire ciò che il personaggio dice e nello stesso tempo levare la canzone. Perché, come dicevo, il problema del copia non è tanto da prendere sotto gamba. Se vuoi, come mi è stato scritto, perché mi è stato scritto, ma io l'episodio, con quel pezzo dell'Ordine 66, da altre parti io lo sento, lo lasciano, non lo toccano, però tu l'hai fatto e hai rovinato il momento. Sì, è vero, però lo ammetto anch'io che ho rovinato il momento, ma se gli altri non lo fanno, allora o se ne fregano, cosa più probabile, probabilmente, o in qualche maniera, non vi so dire come, come funziona, eccetera, sono protetti, ma protetti non nel senso a livello, tipo mafiosi, no, non in quel senso, nel senso che magari o sono youtuber grossi, anche non particolarmente grossi, o veramente grossi, che comunque hanno un partner, qualcuno, un manager, che ne so, alle spalle, che li scherma da queste segnalazioni, perché magari loro monetizzando e portando anche a YouTube stessa una certa somma è come fosse un lavoro, quindi lo fanno per lavoro, allora devono essere protetti, altrimenti chiuderebbero con troppe segnalazioni, cioè, troppe segnalazioni, no, però diciamo che col tempo la segnalazione può diventare strike, se non stai attento, adesso, beh, ve lo faccio vedere, oppure terza opzione anche, magari non vengono beccate, perché può capitare anche che la segnalazione sia random, solo che io non lo posso sapere, non lo posso sapere, cioè, non ho la sfera di cristallo, io, per tutelarmi, come vedo, qua, la dicitura, include contenuti, per esempio, da copyright, vado a vedere, dico, cavolo, togliamo la canzone, perché adesso, clicco, così vi faccio vedere, appare, sta schermata, adesso qua, voi vedete scritto, elaborazione del video in corso, perché sto cercando, sto provando, a far sì che sia YouTube, a levarmi il pezzo, purtroppo, ecco, io ve lo dico già adesso, per chi sta seguendo Star Wars, io il gioco l'ho finito, infatti, questo qua, è l'episodio 29, sarà l'ultimo, ho scurato, l'immagine di copertina, così non ci sono spoiler, ho tolto anche il titolo, così non ci sono spoiler, e vi dirò già, che per chi ha finito il gioco, chi l'ha giocato, e ha finito il gioco, sa di cosa parlo, ma nel pezzo, dove, c'è un colpo di scena, abbastanza bello, c'è annessa, anche una colonna sonora, di un qualche film, probabilmente, e dovrò, metterci mano io, adesso sto vedendo, se YouTube ce la fa, bene, se non ce la fa, devo cancellare il video, e metterci mano io, e come potete anche leggere, in questo caso, perché poi appunto, comunque l'autore, di chi fa la rimedicazione, di copyright, viene, viene scritto, c'è scritto, in questo caso è la UMG, che mi pare che è della Universal, se non sbaglio, per conto però, di Walt Disney Records, vuol dire che, la Walt Disney Records, detiene i diritti, di questa, registrazione audio, che c'è nel gioco, e la UMG, UMG, mi ha mandato, la rivendicazione, adesso qua, voi non lo vedete, perché c'è scritto, l'evoluzione video in corso, ma appaiono due scritte, nel caso, di musiche, una c'è scritto, presenta una contestazione, e volendolo poi fare, tu dici, contesto, la rivendicazione di copyright, però devi dare, un motivo valido, e, il dire, io il canale, non lo monetizzo, o il video, non lo monetizzo, non ci guadagno niente, non è, una scusa valida, non è, c'è scritto proprio, palese, palese, chiaro, chiaro, nelle, nelle regole di YouTube, non è una scusa valida, quindi devi, a meno che non hai, una scusa davvero valida, per contestare, la rivendicazione, puoi andare a peggiorare, la situazione, perché, chi, ha fatto la rivendicazione, può dirti, ah sì, tu mi stai contestando, diciamo, la musica, per cui io ho i diritti, allora ti butto giù il video, possono fare così, quindi, diciamo, la cosa ideale, è, non fare niente, se non fai niente, infatti c'è scritto anche, anche qua, anche se adesso non c'è scritto, ah no, sì, qua c'è scritto, vedi, se accetti queste condizioni, cioè che, la monetizzazione, i video, con la rivendicazione di copyright, vengono, diciamo, tu non li puoi monetizzare, ma vengono monetizzati, da chi rivendica, il, il copyright, il pezzo, il pezzo incriminato, ecco, quindi se tu accetti, che i guadagni, vanno, all'autore, della rivendicazione, non devi fare niente, peccato però, che questo qua, un giorno, può svegliarsi, e dire, ma io, cioè, non voglio che lui, mi, faccia sentire, quella canzone, nel suo video, e gli butto giù il video, oppure, lo blocco, in certi paesi, io lo so, perché all'inizio, quando facevo, gli amv e gmw, che erano video musicali, praticamente, il 90% dei video, che avevo, avevano, sta schermata qua, con la rivendicazione, di copiati, io però, allora, non sapendo, tutte queste cose, dicevo, ma sic se ne frega, facciamo guadagnare, il tizio, ok, e lasciamo sul video, peccato che però, all'inizio, come c'era scritto, qua prima, che voi, vabbè, non l'avete visto, ve lo faccio vedere, nell'altro video, qua c'è scritto, restrizioni, alla visualizzazione, nessuno, cioè, che il video, può essere visto, da chiunque, però, col tempo, questi restrizioni, possono diventare, delle vere, proprie restrizioni, perché può capitare, che, il video, non può essere, riprodotto, su dispositivi mobile, mi è successo, anche questo, con i vecchi video, o, il video, viene bloccato, in alcuni paesi, mi è successo, anche questo, oppure, il video, viene bloccato, in tutto il mondo, e in quel caso, mi pare, che una volta, mi è capitato, ma io, come l'ho visto, questa, questa dicitura qua, cancellato subito, il video, perché, i video, bloccati in tutto il mondo, è molto facile, che vengano, buttati giù, e quindi, quando ti buttano giù, un video, è, uno strike, automatico, con lo strike, sono già problemi, cioè, con tre, ti buttano giù, il canale, con uno, hai delle penalità, uno o due, penso, hai delle penalità, se non ricordo male, una di queste, è che non puoi caricare, video più lunghi, di 15 minuti, e poi, se non ricordo, sempre male, perché è un po' di anni, che non vado a vedere, per riabilitare, il canale, ci vogliono sei mesi, e devi fare, diciamo, devi, si, devi fare, seguire delle procedure, e poi, che ti dice, youtube, per riabilitare il tuo canale, siccome, cioè, è un problema, è un problema, che, ma molti non danno peso, però c'è, c'è, è tangibile, come problema, e poi, l'altro tipo, l'altro tipo, di segnalazione, che mi capita, questo qua, però, è più comune, devo dire, e mi sta capitando, da praticamente, quando ho superato, i 1000 iscritti, cosa fanno? In questo caso, però, non è una segnalazione, di una qualche, compagnia seria, che può essere, la Walt Disney Records, no? Che, diciamo, sicuramente, avrà i diritti, della, di Star Wars, no? Come ben sappiamo, no? In questo caso, capita, che, mi segnalino, di un qualsiasi episodio, di qualsiasi video, insomma, una rivendicazione, per contenuti visivi, quindi, ciò che vedi a schermo, non è una cosa, a livello sonoro, è proprio ciò che vedi a schermo, ma, queste segnalazioni, sono da parte, di altri, canali, adesso, per esempio, quel qua c'è scritto, sull'episodio, di Man of Medan, la Cruelator's Cut, l'episodio 1, eh, pare, c'è scritto così, Namco Bandai Games Inc, canale, 876 TV, ha rivendicato, questi, due minuti, di video, ma tu dici, ma non è possibile, perché, prima di tutto, se vogliamo, proprio vedere, c'è, il gioco, comunque, appartiene, agli sviluppatori, o comunque, sì, è vero, appartiene, alla Bandai, perché mi pare, che lui, l'ha pubblicato, forse Bandai, però, c'è, dopo tre mesi, tu mi rivendichi, questo pezzo di video, forse anche vero, dovrei dirmelo subito, cioè, voglio dire, no? Infatti, qua, vedi, qua appare, quello che vi dicevo prima, presenta una contestazione, se vuoi, lo puoi fare, che però è meglio non fare, ma in questo caso, invece, eh, sono segnalazioni, da parte di altri canali, che, le mandano, a random, totalmente a caso, per, ugualmente, rubare, i guadagni, degli altri, dei canali, cioè, nel mio caso, i miei guadagni, però, cosa succederà? Adesso, mi ha mandato la segnalazione, oggi, praticamente, tra qualche giorno, magari anche tra qualche ora, o tra qualche settimana, comunque, tra un po' di tempo, vedrete che questa segnalazione, sparirà, perché? Perché il tizio, che gestisce sto canale, si accorgerà, che il mio canale, non è monetizzato, perciò dice, ma, io cosa segnalo a fare, un canale, che non monetizzano, no, introiti, la tolgo, tra qualche ora, sparirà, infatti, neanche a farlo apposta, settimana scorsa, qua, nella sezione, note sul copyright, adesso ci sono solo due video, ma immaginate, che ci sono ben, quattro pagine, di miei video, tutti, tutti vecchi, tutti stravecchi, qualcuno anche di, quattro anni fa, tutti segnalati, per contenuti visivi, da parte, di un canale, X, che adesso, non mi ricordo il nome, perché ha cercato, di guadagnare, sulle mie spalle, però, poi, cosa è successo, si è accorto, che il mio canale, non è monetizzato, quindi, le entrate, sono pari a zero, e me le ha tolte tutte, tutte me le ha tolte, cioè, quindi, io in questo caso, lo so, allora, non faccio niente, aspetto, e la sinerazione, sparirà, ma nel caso, della musica, il discorso, è diverso, perché questa, è certamente, una rivendicazione, seria, anche perché, mi è arrivata, subito dopo, che ho, diciamo, caricato il video, e YouTube l'ha elaborato, cioè, solitamente, le sinerazioni, quelle giuste, quelle serie, arrivano subito, se non, nel giro di un minuto, e nel giro di cinque minuti, ce l'hai, ci arrivano subito, quelle che arrivano dopo mesi, dipende dal caso, perché comunque, i detentori dei diritti, cambiano, ci sono variazioni, eccetera, però, il più delle volte, diciamo, false, cioè, sono solo, per guadagnare, sulle tue spalle, quindi, quello lo so, e non faccio niente, e poi sparisce da sola, ma in questo caso, perché in passato, ho provato, qualche volta, ad aspettare, ma la situazione, non cambia, cioè, la registrazione audio, mi viene, mi rimane segnalata, e, ciao, cioè, nel senso, o faccio qualcosa io, o in futuro, potrebbe, potrebbe aggravarsi, ma anche no, cioè, nel senso, non posso sapere, cosa cadrà in futuro, magari per dieci anni, mi rimane, sta schermata, e va bene così, voglio dire, ma io, siccome vorrei stare tranquillo, e mi dispiacerebbe enormemente, anche solo ricevere uno strike, visto che comunque, mi diverto, eccetera, se questo è, ogni tanto, il compromesso, che devo pagare, per continuare, a stare su YouTube, finché, non divento, uno abbastanza grosso, o che comunque, ha qualcuno, dietro, che, diciamo, mi scherma, da sti problemi, e devo continuare così, non ci posso fare niente, cioè, io, in primis, io, mi dispiace, enormemente, diciamo, manipolare, la traccia audio, del gioco, ma, o così, allora, tanto vale, torno a giocare, per i fatti miei, cioè, perché a me dispiacerebbe, non, non esserci più, su YouTube, perciò, eh, sì, no, sì, perciò, no, volevo dire, diciamo, eh, poi dipende, anche da azienda, azienda, ma non è detto, perché, io so che la, IEA, se non riesco a dirlo, Electronic Arts, ok, lei, è piuttosto permissiva, per queste cose, cioè, i loro giochi, al 99% delle volte, non hanno queste segnalazioni, secondo me, Star Wars è un po' un'eccezione, perché hanno, hanno voluto, eh, giustamente, richiamare i film, far sentire le emozioni, al giocatore, e quindi hanno inserito, qualche, insomma, di protetto, protetto, però, tipo, la, eh, Tony Cars, la Ubisoft, e anche altre, loro, anche se, appunto, non si potrebbe, ma non dicono nulla, non dicono nulla, non dice niente, neanche la 2K, che so che la 2K, invece, è, già più, restrittiva, per queste cose, quella che pubblica, eh, i giochi Rockstar, e non solo, anche altri, tipo, Bioshock, mi ricordo che Bioshock, era pieno di, eh, segnalazioni, c'erano musiche, degli anni 60, con i jukebox, tutte segnalate, infatti, mi ricordo, che dovevo, toglierle, o non far partire i jukebox, quindi, detto questo, eh, ripeto, mi dispiace, enormemente, che voi non potete sentire, delle volte, le musiche, di un gioco, ma, ripeto, così, o scendo a compromessi, o, o non mi vedete più, magari, col tempo, chi lo sa, di certo, però, sta cosa, io non, non faccio finta di niente, perché, come ripeto, un'altra volta, se da altre parti, voi sentite, eh, appunto, il video intatto, il motivo c'è, perché, o l'assegnazione gli è arrivata, ha fatto finta di niente, o non gli è arrivata proprio, e è andata bene, magari, oppure, eh, è protetto, perché porta, dei guadagni, alla piattaforma, prendo, appunto, adesso, questo pezzo, visto che è l'episodio finale, non ve lo posso assolutamente far vedere, perché ci sarebbe lo spoiler, però, prendo, vi faccio degli esempi, perché, ho pensato, ma è possibile che, è capitato solo a me, cioè, perché posso capire, che la maggior parte, magari, se ne infischi, e quindi, il video si sente, come si dovrebbe sentire, ma ci sarà qualcuno, perché poi io spesso, spesso, quando faccio un gioco, se vedo, che il gioco, ha qualche colonna sonoro, canzone protetta, e poi cosa faccio, vado a vedere gli altri, perché dico, almeno così mi regolo, dico, voglio andare a vedere, lo stesso pezzo, giocato da un altro, e sentire, se lui, ha lasciato la canzone, o l'ha tolta, perché se lui l'ha tolta, allora è facile, che la canzone, sia davvero segnalata, e così, ho fatto, praticamente, con Death Stranding, ho fatto, e infatti, ho beccato più di uno, che ha tolto le canzoni, anche se, anche lì, anche se altri, le ha lasciate, e anche qua, come mi è stato consigliato, di fare, sono andato a vedere, sia, questo pezzo finale, che molti, hanno lasciato in tonso, altri no, pochi, pochi, ma altri no, e sia, sono andato a vedere, la scena, dell'ordine 66, che adesso, vi faccio vedere, che li ho raggruppati, qua in alto, ve li, ve li faccio vedere, perché questi, che ho selezionato, allora, ovviamente, come ripeto, la maggior parte, ha lasciato la scena, intatta, però, qualcuno, come me, che ha dovuto, metterci mano, o fare qualcosa, c'è, sta, c'è, c'è, c'è presente, quindi dico, allora, sono mica l'unico, scemo, come capitano, voglio dire, e adesso, ve lo faccio vedere, ho raggruppato, credo, sette video, dove, qualche cosa, c'è, per esempio, è anche qua, è anche, io pensavo, che magari, se uno ha tanti iscritti, è più protetto, di chi ha meno iscritti, ma non è detto, non è detto, perché, per esempio, questo qua, ne ha 731.000, è straniero, qui, non so se, americano, inglese, quello che è, il gioco comunque, è in inglese, però, adesso sentiamo, che non mi ricordo, che problemi ha avuto, ah no, ecco, lui, lui, in realtà, se sentite, aspetta, lui, la musica, l'ha proprio tolta, cioè, lui, forse, sapendolo prima, forse, non lo so, non lo so, perché il video è stato pubblicato, il 15 novembre, mi viene da pensare, che magari, eh, qualcuno, dell'I.A. Electronic Arts, stessa, non so, non lo so, oppure ci ha pensato lui, non ve lo so dire, lui, o magari gioca così, in tutti i giochi, e non lo conosco, quindi non lo so, eh, ha tolto, cioè, lui dal gioco, si sente chiaramente, che il parlato è perfetto, ma in sottofondo, non c'è audio, non c'è musica, quindi lui, dalle impostazioni del gioco, ha messo a zero, la musica. si sente, chiaramente. Sì, si sentono gli effetti, e tutto, ma la musica non c'è, e mi sembra, troppo, mi sembra, troppo perfetto, per essere stato, diciamo, editato dopo, la registrazione, ecco, mi sembra già così, da prima. Poi, passiamo al prossimo, vediamo lui, ok, lui, la musica c'è, l'abbiamo sentita, chiaramente, ma poi, ha tolto tutto, lui, e non mettendo, neanche, i sottotitoli, ok, blocchiamo, non mettendo, è tornata dopo, non mettendo, neanche i sottotitoli, non abbiamo capito, cosa ci sono detti, lui proprio ha fatto, quello che io ho fatto, con Death Stranding, solo che farlo, durante un gameplay, è un conto, cioè, un giocato, una parte giocata, farlo adesso, durante un filmato, è rompere le balle, pure a me, se devo farlo, mi dà molto fastidio, però, lui l'ha fatto, come abbiamo sentito, adesso non ripeto, prima che, mi arrivi, qualche segnalazione, perché, come ho detto, abbiamo sentito, pochissimo, la colonna sonora, spero, non mi segnalano, questi due secondi, di audio, però vabbè, comunque, come ripeto, lui, cioè, la canzone l'ha lasciata, la colonna sonora, però poi, ha tolto, ha tolto, l'audio, vediamo il prossimo, questo, come il primo, non c'è musica, l'ha azzerata, l'ha azzerata lui, secondo me, dalle impostazioni, dalle impostazioni del gioco, l'ha azzerata, poi, sentiamo questo, uguale, a quello di prima, solo che lui, ha messo sottotitoli, la musica, la musica è parlato, li ha tolti, proprio, e lui, ha un milione, settecentoquarantamila iscritti, cioè, quindi lui è bello grosso, voglio dire, eppure, eppure, non c'è, cioè, ha avuto il mio stesso problema, praticamente, eh, tolto, vediamo, è anche l'espritutto, tolto, eh, ok, vediamo il prossimo, ah, sì, no, lui, me lo ricordo, perché questo qua, The Long Gamer, ho visto qualcosa di suo, ma non mi piace, perché, grida un po' troppo, lui ha fatto un'altra cosa, adesso, ve lo faccio sentire, e non arriverà mai, purtroppo, se ne avete notato, è per chi, o ha seguito la serie, o le varie serie in giro, o chi l'ha anche giocato, lui ha fatto una cosa ancora diversa, ha tolto la musica originale, e ne ha messa un'altra, quella, una probabilmente, free copyright, che ci sono su, su YouTube, basta cercare, l'ho fatto anch'io, se non sbaglio, per Life is Strange, before the storm, credo, avevo, avevo tolto le musiche originali, e messo altre musiche, adesso non mi ricordo, però delle volte, mi è capitato di farlo anche a me, perché, delle volte, mi sembra proprio brutto, lasciare, muto, il video, praticamente, e neanche, tra l'altro, visto che ho nominato, Life is Strange, la mia amica, Lara Padawan, lei che ha portato, tutto il primo, Life is Strange, ha fatto proprio così, per tutto il gioco, la maggior parte, delle canzoni, mi aveva detto, sono segnalate, infatti, mi ha detto, Leo, se, fai anche tu, Life is Strange, stai attento, perché, la maggior parte, delle canzoni, sono segnalate, però il gioco, ovviamente, merita, allora, io cosa ho fatto, ho tolto le canzoni originali, e, ne ho messe altre, per forza, perché mi sembrava brutto, lasciare il vuoto, audio, e lui, in questo caso, ha fatto lo stesso, praticamente, risentiamo, ma è diversa, è diversa, non è la sua, vediamo se per caso, l'ha scritto, da un'occhiata, vedi, vedi che l'ha messo, ha messo qua, che tipo, di canzone, ha, ha usato, per sostituirlo, originale, infatti, devi fare così, quando tu vai, a prendere una canzone, free copyright, e che puoi usare, per qualsiasi tuo video, dopo, devi dargli i credit, in descrizione, dove sei andato a prenderla, e questo, lui l'ha fatto, quindi, anche solo, dandogli i credit, qua, lui è a posto, lui è tranquillo, la canzone, non gli verrà segnalata, ok, poi, mettiamo il prossimo, lui, un po' come gli altri, che abbiamo sentito, ha tolto lui, la musica, si sentono solo le voci, chiaramente, e sentiamo l'ultimo, ok, lui, come gli altri, quelle che abbiamo già sentito, ha avuto, il nostro stesso problema, solo che ha tolto tutto, ha tolto voce, effetti, musica, e lasciato un buco audio, praticamente, ok, però, vedete che comunque, a seconda, del canale, è anche diverso, c'è a uno, abbiamo visto, o l'ha tolta lui, cioè nel senso, ha voluto essere sicuro, e ha tolto, proprio, il pezzo intero, o perché, uno che abbiamo visto prima, l'esplosione l'ha tolta, invece lui l'ha lasciata, e secondo me, dipende anche dal canale, non lo so, da come mandano, steccavoli, segnalazioni, comunque, come vedete, io non sono stato l'unico, ad aver avuto, il problema, di copyright, durante l'episodio, dell'ordine 66, poi ognuno, ha cercato di risolvere, nella maniera, una maniera diversa, eh, quelli forse, più, che hanno fatto, la cosa forse più giusta, è stata quella, proprio di alzerare, la musica, e lasciare il parlato, perché, azzerandolo, ovviamente, prima, il parlato, si è sentito, perfettamente, praticamente, solo che è brutto, perché non c'è la musica, e quindi, c'è meno, come posso dire, ci sono meno emozioni, ti fa provare, meno emozioni, il pezzo, ovviamente, The Long Gamer, ha optato, per sostituirla, quindi, cambiarla proprio, e sicuramente, scommetto quello che volete, qualcuno, sotto il suo video, gli aveva detto, eh, ma hai cambiato la musica, hai fatto, un danno della madonna, però, ognuno, cerca di risolvere, il problema che ha, come può, io, non ho voluto, cambiare la canzone, anche perché, ancora lavoro in più, cioè, non è semplicissimo riuscire, anche perché, comunque, se cambi la canzone, devi trovare quella proprio giusta, eh, cioè, poi io, ci tengo, anche se vogliamo, alla parte, ovviamente, audio, per quanto, delle volte, sono costretto a tagliarlo, ma se non trovo la canzone, che mi si addice, che si, che combacia perfettamente alla scena, piuttosto io lascio vuoto, non, non metto una canzone a caso, perché, non mi piace, ovviamente, poi sta, anche ognuno di noi, cioè, uno, appunto, uno preferisce cambiare la canzone, un altro no, comunque, come vedete, qualcun altro c'è, che ha avuto problemi come me, quindi, non sono certo l'unico, la maggior parte, però, sicuramente, ha lasciato tutto intatto, e, o si è beccata, come ho già detto, la segnalazione, o, in qualche maniera, è riuscito a evitarla, non so cosa dirvi, io approfitto anche di questo video, per dirvi, che, in futuro, comunque, in generale, se vedete, variazioni nell'audio, è per il copyright, cioè, in generale, è questa, la motivazione principale, certo, io non mi sogno, di andare a manipolare l'audio, così, a caso, cioè, ma va, ripeto, in primis, a me dispiace, a me, però, non, non ci posso, non ci posso fare niente, e, come ho detto, non pensate sia una cosa, leggera, perché so di storie, almeno, una storia la so per certo, che, se gli gira veramente male, all'autore della rivendicazione, ti chiudono davvero il canale, non sto scherzando, perché conoscevo, conoscevo virtualmente, nel senso, che lo seguo tuttora, un ragazzo su YouTube, non so se, avete sentito parlare, di Mr. Massi 81, vabbè, diciamo, fa un'ironia particolare, sugli anime, però, a lui, diciamo, che nel giro di una settimana, pare due anni fa, gli hanno buttato giù un canale, cioè il canale che aveva, di 75 mila iscritti, così, perché la Toei, gli ha segnalato, prima uno, poi due, poi tre, poi non so cos'altro, di pezzi di anime, proprietari della Toei, e ha deciso che, non dovevano essere pubblicati su YouTube, sul suo canale, almeno, e gli ha chiuso il canale, così, in una settimana, un canale, da 75 mila iscritti, è andato in fumo, poi, vabbè, adesso, sono passati due anni, lui, ne ha riaperto un altro, con un nome leggermente, differente, poi, però, adesso, l'ha rimesso uguale a prima, in due anni, è riuscito a rifarsi, di 75 mila iscritti, e andare anche oltre, però, anche lui, vista l'esperienza vissuta, ha cambiato, metodo, di montaggio, dei video, se prima, faceva vedere, proprio pezzi, di video, di anime, o di film, perché fa, riassunti ironici, anche su dei film, adesso, mette solo delle foto, eh, perché, in qualche modo, se vuoi stare, qui su YouTube, e non avere problemi, il modo, devi trovarlo, finché, cioè, non posso neanche dire, finché sei grosso, perché lui ne aveva 75 mila, eppure, il canale, l'ha chiuso lo stesso, quindi, finché proprio, non hai, come posso dire, forse un manager, forse qualcuno, davvero, alle spalle, che ti scherma, e non sei, una testata giornalistica, sei scoperto, perché comunque, YouTube, non so se l'ho già detto, ma in ogni caso, se ne lava, su queste questioni, se ne lava sempre le mani, perché, probabilmente, le rivendicazioni, saranno talmente tante, che non si mettono a controllare, se sono vere, false, giuste o sbagliate, quindi, lui le manda, cioè, permette che vengano mandate, e chi si è visto, si è visto, tanto i suoi guadagni, ce li ha, e quindi, chi se ne frega, voglio dire, è così, è brutto, ma è così, spero, insomma, di avervi illuminato, un po' di più, se non sono, non sono stato chiaro, su certe questioni, ditemelo pure, sotto i commenti, se avete domande, chiedetemele pure, ma, almeno, ho cercato, a parole mie, come sempre, di svelarvi, una parte di YouTube, che magari, non conoscevate, ecco, niente, io vi ringrazio, come sempre, per avermi ascoltato, e noi ci risentiamo, al prossimo video, ciao a tutti, ragazze e ragazzi, ciao a tutti,